Noi desideriamo condividere con voi le ragioni che ci spingono a essere fermamente contrari alla proposta di dedicare una via cittadina a Silvio Berlusconi, considerando il fatto che egli è stato condannato in via definitiva e la sua storia si discosta completamente dai principi che riteniamo fondamentali per la nostra comunità. In primo luogo è importante ricordare che la scelta di dedicare una via a una figura pubblica rappresenta un riconoscimento ufficiale e un onore conferito a quella persona, creando un legame tra il suo nome, i valori e l'identità della nostra città. Dobbiamo dunque considerare attentamente se la persona in questione incarna tali valori e se la sua storia si è concluente con il messaggio che vogliamo trasmettere alle generazioni future. Silvio Berlusconi, indipendentemente dalle sue qualità come imprenditore o politico, ha subito una condanna definitiva. Questo significa che secondo la legge è stato riconosciuto colpevole di aver commesso un reato grave. Dedicare una via a una persona con un passato di condanne contrasta con l'idea di promuovere una società giusta, basata sul rispetto delle norme e sulla responsabilità individuale. Direi la stessa cosa per Forlani, che ha avuto una condanna in due anni e mezzo. Inoltre è fondamentale considerare la coerenza dei principi che guidano la nostra comunità. Le azioni di Silvio Berlusconi, lungo la sua carriera politica e imprenditoriale, sono state oggetto di numerose controversie e critiche. Il suo coinvolgimento di scandali finanziari e sessuali non rappresenta un esempio positivo per i cittadini, specialmente per i giovani, che si formano e cercano modelli da seguire. Il pullman delle troie è una delle ultime cose aberranti, cioè le donne soprattutto della maggioranza su questo penso che dovrebbero ragionare, cioè un parere sulle donne veramente aberrante. La dedica di una via Berlusconi rischerebbe di creare divisioni e polemiche all'interno della nostra città. Molti cittadini potrebbero sentire che tale decisione non rispecchia i loro valori e potrebbero minare la fiducia nella giustizia e nell'istituzione locale. Inoltre ciò potrebbe rappresentare un'immagine negativa per la nostra città, sia a livello nazionale che internazionale. Come rappresentanti eletti della nostra città riteniamo fondamentale fare scelte che promuovano l'etica pubblica, la legalità e la coesione. Questo nostro giudizio profondamente negativo nei confronti di Silvio Berlusconi non lede il nostro aspetto, non lede il nostro profondo rispetto e vicinanza a chi gli ha voluto bene e che quindi soffre la sua mancanza. Sono due livelli molto diversi, da una parte l'umanità, dall'altra l'inopportunità di dedicare luoghi della città a personaggi divisivi e condannati. Avrei finito qui questo discorso, ma purtroppo poi c'è stato quel dono che non si sa ancora se è dono di 30 milioni di euro a Dell'Utri. Essendo stato riconosciuto come mediatore tra Cosa Nostra e l'allora imprenditore Berlusconi, nel 2014 Marcello Dell'Utri è stato condannato per il reato di concorso esterno di associazioni mafiose. La sentenza definitiva, io la girerò a tutti i consiglieri, è la numero 28225 del 9 maggio del 2014, di 74 bacine aberranti e invito tutti a leggerlo, destra, sinistra, centro, sopra, sotto. Leggo solo alcune righe, bastano queste, tra virgolette, questo dice la sentenza. Grazie all'opera di intermediazione svolta da Dell'Utri veniva raggiunto un accordo che prevedeva la corrisponzione da parte di Silvio Berlusconi di rilevanti somme di denaro in cambio della protezione a lui accordata da Cosa Nostra palennimitana. L'accordo era fonte di reciproco vantaggio per le parti che a esse non avevano aderito, grazie all'impegno profuso da Dell'Utri. Per Silvio Berlusconi esso consisteva nella protezione complessiva sia sul versante personale che su quello economico. Per la consulteria mafiosa si traduceva invece nel conseguimento di rilevanti profitti di natura patrimoniale. Tale patto non era stato preceduto da azioni intimidatorie di Cosa Nostra in danno di Silvio Berlusconi e costituiva piuttosto l'espressione di una certa espressa propensione a monetizzare, per quanto possibile, il rischio a cui era esposto. Il sopravvento di Riina, questo dice la Cassazione, il sopravvento di Riina e De Corleonesi, prosegue la Cassazione, non aveva mutato gli equilibri che avevano garantito l'accordo nel 1974 tra Berlusconi e Cosa Nostra, grazie alle interminazioni di Dell'Utri che aveva assicurato dal lato la rigenerale protezione dell'imprenditore e dall'altro profitti e guadagni illeciti utili al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa che per circa un ventennio aveva mantenuto contatti con il facoltoso imprenditore. Continua la Cassazione. L'avvento di Corleonesi di Tottor Riina non aveva inciso sulla causa illecita del patto. Berlusconi aveva infatti costantemente manifestato la sua personale propensione a non ricorrere a forme istituzionali di tutela ma avvalendosi piuttosto dell'opera di mediazione con Cosa Nostra svolta da Dell'Utri. A sua volta Dell'Utri aveva provveduto con continuità a effettuare per conto di Berlusconi il versamento delle somme concordate a Cosa Nostra e non aveva in alcun modo contestato le nuove richieste avanzate da Tottor Riina. Questo è successo negli anni dell'occessione di Falcone e di Bersellino. Io mi vergogno che in un consiglio comunale venga presentata una proposta del genere.